Inizio preparando la farcia. In una ciotola capiente metto 500 g di mascarpone e a seguire 100 ml di panna da montare zuccherata e 250 g di nutella. Lavoro con le fruste elettriche per un paio di minuti. Ottengo una crema bella liscia e spumosa. Con l'aiuto di un coltello seghettato taglio a fette dello stesso spessore un pandoro da 750 g, quindi taglio a metà. Taglio la prima fetta di pandoro e do la forma a triangolo, rappresenterà la testa del riccio. Falcisco le fette con la crema, solo da un lato. Posiziono in modo verticale sul piatto da portata e in modo sfalzato. Ho fatto sciogliere a bagnomaria 30 g di cioccolato fondente. Con l'aiuto della sac a poche realizzi in due misure differenti i baffi del riccio. Lascio solidificare. Posiziono sulla testa del riccio tre confetti di cioccolato, rappresentano gli occhietti e il musetto. infine adagi baffi ormai solidificati. Termino con una generosa spolverata di zucchero a velo. Questo riccio di pandoro è davvero golosissimo e semplicissimo da preparare. Vi farà fare sicuramente un figurone. Miei cari amici, un abbraccio e buone feste! Miei cari amici, un abbraccio e buone feste!